Abbiamo il nostro inviato per The Canter, Fabrizio Nonis. Ciao Fabrizio. Fabrizio, buonasera. Ciao Fede, ciao Pinto. Com'è il tempo in costiera? C'è il sole? È una meraviglia, sentite il rumore del mare, è una meraviglia. Ci troviamo di quel quale per l'assesso del chef. E ho già visto tanti amici che conoscete anche voi. Tra l'altro qui con me c'è anche Bobo Cerea. L'ambiente è veramente bellissimo, c'è un clima straordinario. Tanta bella gente, ma soprattutto l'opportunità di poter mangiare così in convivialità molto semplice con tanti ospiti, ma anche tanti bravi chef che portano qui, come voi vi ricordate, spesso citate anche nel Radio The Canter, portano specializzarsi. Senti, ho beccato il volo Bobo Cerea. Bobo Cerea, Federico e Fede Tinto qui di Radio The Canter. Li salutiamo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Fede, ciao Tinto. Qua ci sta bene, ci mancate, ci mancate. Siamo a Bordo Spiaggia, io e Fabrizio, peccato che siamo io e lui, va bene, però ci mancate. Bobo Cerea è tre stelle Michelin, Fabrizio Nonis è il nostro inviato in quella che è la festa degli chef che si svolge ogni anno a Vico e Quense, sono i migliori chef d'Italia che si radunano per stare insieme. Bello, non litigano. E fanno da mangiare un po' per uno, ecco. Che cosa ci propone Bobo Cerea? Allora, noi abbiamo portato una piccola entrega, guarda, un gelato di mandala di Avola con un gambero di onegna e con del limone di amalfi che non poteva mancare, visto la zona dove siamo. E stiamo rispondendo un bel successo. C'è una bella coda, guarda, guarda, non ti è noi, ma adesso ti appena io la smaltiamo. E vorrei assaggiare poi anche la mia BB Burger, eh. Ecco, ti volevo chiedere, ma tu parli e basta oppure cucini qualcosa? Eh, ogni tanto ti faccio a cucinare, ma non so gli amici come vuoi dire poi. No, Bobo, io parlavo di Nonis, io lo so che tu lavori e come. E' una brana strana, esatto. E so che... Lo vedo sempre in giro un po', scusatemi, per me neanche a peggioare. Però stasera mi fa lavorare, ho portato le BB Burger. Dopo ti faccio, ti dico se hai lavorato o no, va bene, ti faccio sapere, per adesso lo vedo per bello tranquillo. Grazie mille, salutiamo il nostro fantastico amico Bobo.